Ben trovati al TG Sordi di Lecce 7. Scacco al clan Tornese. Con l'operazione Labirinto, i carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno arrestato 33 persone, tra cui due presunti capi. Vincenzo Rizzo e Saulle Politi. Oltre a droga ed estorsioni, il gruppo criminale investiva in attività imprenditoriali. Minacce di morte in strada e davanti ai numerosi testimoni. Bersaglio il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, che sarebbe stato avvicinato da una persona durante una manifestazione sportiva in Piazza Libertini. Il motivo ha a che fare con il rinnovo di permessi per la vendita ambulante. Xylella è una grave malattia delle piante che uccide gli olivi. Il commissario europeo alla sanità, Andriukaitis, si scaglia contro Beppe Grillo, che ha pubblicato un articolo che mette in dubbio la correlazione tra il dissecamento degli olivi e il batterio Xylella. E' stato arrestato il presunto autore dell'omicidio di Luigi Antonio De Rocco, il 32enne di Casarano, freddato a colpi di fucile il 28 giugno scorso alla periferia di Foggia. Si tratta di Marco Carella, 38enne foggiano, che secondo le indagini dei carabinieri voleva in realtà uccidere il fratello Bruno, che al momento dell'agguato era in auto con il 32enne Salentino. Gli assistenti di volo della compagnia irlandese hanno annunciato che incroceranno le braccia il 12, il 25 e il 26 luglio prossimi. Tra gli scali più colpiti c'è quello di Brindisi. Le luminarie di Mariano Light sono state scelte da Dolce e Gabbana per l'allestimento di Villa Olmo, la lussuosa villa sul lago di Como, dove nei giorni scorsi è stata presentata una collezione di lusso, fatta esclusivamente di pezzi unici. Grazie.